Let's go, bitches! Sono Power, il vostro competitive player preferito e siamo qui con un video veramente particolare questa volta Allora, ho fatto il prestige e come sapete ho cominciato a prestigiare le armi e a provare un pochino di cose nuove E mentre giocavo con il Manowar ho notato che quando utilizzavo il calcio anteriore, cioè quello che riduce il rinculo quando si mira e non lo usavo Cambiava praticamente niente, cioè il calcio anteriore cambiava veramente pochissimo la precisione dell'arma Magari a grandissime distanze cambia questa cosa, ma diciamo che giocando, come potete vedere dal gameplay, ho scritto sotto comunque Non calcio, con calcio e senza calcio, quindi potete vedere tranquillamente come gioco, qual è la differenza Ma a me sembra veramente impercettibile Sono andato in tutti contro tutti, in schermo condiviso e ho fatto un test sparando sul muro E vedendo un personaggio con calcio e l'altro senza, cosa succedeva? E beh, come vedete il risultato comunque a me pare abbastanza, non lo so, pare abbastanza simile in questo caso Cioè non cambia così tanto, da grandi distanze magari cambia tanto Ma vicino a media distanza eppure abbastanza lunga non cambia quasi niente Perché ovviamente tutti noi quando giochiamo controlliamo il rinculo dell'arma Quindi quello che vi voglio dire è che calcio attualmente non sembra così utile sul Manowar E quello che farò in questi giorni sarà provarlo su diverse armi Lo proverò comunque sull'ICR, lo proverò anche sulle armi a colpo singolo e burst rifle Come possono essere l'M8, l'XR2 e lo Sheiva E allo stesso modo sugli SMG Voglio cercare di capire se è veramente utile calcio o può essere diciamo uno slot destinato a qualche altro tipo di accessorio O molto più utile Spero vi sia piaciuto questo video Fatemi sapere pure voi utilizzando calcio magari su altre armi o non utilizzandolo Come vi sembra il gioco Io vi saluto bitches al prossimo video Let's go!